Buongiorno, sono Luciano, ho 56 anni e sono affetto dalla distruzione rettile, diabete e altre patologie insomma. Ho assunto dei medicinali, tra cui Viagra, Levitra e altri, ma non mi sono serviti. Adesso sto qui per un'eventuale proresi peniena, ho subito a gennaio un intervento per la steno-tiretrale, sono affetto anche da indorazio penis. No, no assolutamente no, perché è doloroso. Tramite, tramite il professor Antonini e tramite internet. Cioè la proresi peniena è composta da, tricomponenti, è composta da un serbatoio, un bottone, tasto come si chiama, e dei cilindri che vanno inseriti nei corpi cavernosi. Decisamente sì, decisamente sì. È frustrante non avere rapporti sessuali e incappare in brutte figure, insomma. Quindi viene meno la vita sessuale, nel mio caso, insomma, nel caso credo di parecchia gente. No, serenissimo, sono buone mani. Un'aiuto importante, un'aiuto molto importante. Ne sono consapevole. Fa funzionare quello che mi interessa a me, solo a far funzionare. Edicamente perfetto, non lo dico per, lavoro in ospedale, conosco il mondo medico. E' una persona che metta proprio agio il paziente, e questo è molto importante. Soprattutto nei casi urologici, che per l'uomo è molto difficile affrontarlo. Quindi, lui è una persona che ci è uscita egregiamente. Ed. 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 Ed.